che una cosa che non abbiamo sai cos'è? polli polli? andiamo, buonanotte con cosa si tiravano i polli? con il grano, io un pezzo di grano ce l'avrei, i chicchi di grano, i semi di grano ce li ho, però prima bisogna fare la staccionata, ma non so se qua ce ne sono i polli, intanto facciamo la staccionata, no non è che ce ne sono qua, bisogna andarli a cercare, però a me non mi segna, anzi no, perché non mi segna? non mi segna il letto a me? come non ti segna il letto? no, da bussola non mi segna il letto e no, non ti segna il letto, devi segna sempre il punto di spawn ah, capito? cioè comunque era qui intorno dove siamo spawnati all'inizio, tanto alla fine che te ne frega, cioè quando muori non ritorni andiamo vai allora qua bisogna spianare per fare un campo quindi ne abbiamo da tirare via di roba allora, tiriamo via un po' di roba a 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